Ciao, io sono Gedeone e sono un piccolo drone molto intelligente e anche molto piccolo, sono un trecentino. Ma che cos'è un trecentino? Per prima cosa, diciamolo subito, non sono un aeromodello. No, 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 proprio non lo sono. Farti ridere, ma sono un aeromobile. Sì, un aeromobile, proprio come lui, come un giambo. Dato che non sono un aeromodello, posso fare cose che gli aeromodelli sono vietati. Per esempio, posso lavorare. Mi invitano spesso ai matrimoni per fare le foto della sposa e degli invitati. Però il mio vero segreto è il peso, peso molto poco. Sì, meno di 300 grammi. Le mie eliche, che sono taglienti come tutte le eliche, sono protette efficacemente da dei paraeliche. Paraeliche che devo sempre mettere quando vado al lavoro. Per legge. Ma ho un altro segreto importante come gli altri. Dopo il peso sotto i 300 grammi e i paraeliche che devo sempre indossare quando vado al lavoro, il mio terzo segreto è la velocità. La velocità che non può superare i 60 chilometri all'ora. Ma è una bella velocità. Io mica devo fare le corse come i miei amici racer. Adesso ricapitoliamo cosa abbiamo visto finora. I 300 sono sapr, non aeromodelli. Sono aeromobili, come avevamo visto, come un giambo. E quindi possono fare, per esempio, del lavoro, mentre gli aeromodelli per legge possono volare solo per divertimento e per sport. Naturalmente facendo anche delle riprese video, ma private. Ma alla fine sono le ultime tre cose le più importanti. Pesare meno di 0,3 kg. Avere i paraeliche. E non superare la velocità massima di 60 chilometri all'ora, beh, mi dà dei veri superpoteri. Il primo superpotere, che di solito è quello che a molti piace di più, è che con me non è necessario quello che viene chiamato il patentino, cioè l'attestato di pilota remoto. Però a me il superpotere che piace di più è che, essendo così piccolo e leggero con i paraeliche e velocità limitata, sono considerato inoffensivo per legge e quindi non devo tenere una distanza precisa dalle persone che devo riprendere. Anzi, se necessario, posso anche volarci sopra. Ma questo sempre, nel rispetto della sicurezza è sotto la responsabilità del mio pilota. Ascoltami bene però, ho detto persone, non ho detto folle. Una folla come questa non posso affrontarla nemmeno con i miei superpoteri. Anche a me è sempre vietato volare sugli assembramenti inusuali di persone, come sono per esempio gli spettatori di un concerto o di un corteo. E questo, attenzione, anche indoor. Io posso volare sulle persone perché per noi trecentini tutti gli scenari sono non critici. Ogni scenario, anche in città. E quindi, così come non si applica il concetto di buffer rispetto alle persone, non si applica nemmeno rispetto alle case, alle infrastrutture sensibili, alle strade. Questo fa di me la macchina ideale per tutti i lavori aerei con drone che vanno fatti in città. Ricordati sempre, sono un aeromobile, non un aeromodello, e devo conoscere e applicare le regole dell'aria. Lo spazio aereo italiano, come vedi, è parecchio complicato e devo sapere dove posso volare, dove non posso, dove devo chiedere un'autorizzazione e quali quote devo tenere in casi particolari, come per esempio nei CTR. Inoltre, essendo un aeromobile, devo essere registrato a ENAC e devo avere tutta una serie di manuali aeronautici. Manuali che il mio operatore dovrà fare per me. E non basta, mi serve anche un'assicurazione. Non un'assicurazione per aeromodelli, io non sono un aeromodello. Ho bisogno di un'assicurazione per aeromobili, per SAPR. Vedrai che con i corsi in aula e su webinar di dronezine, con i kit di manuali obbligatori, con le assicurazioni per i soci dronezine, sarà un gioco da ragazzi. Trasformare il tuo drone in un SAPR in offensivo, un trecentino, e lavorare da subito, legalmente, in città e sulle persone.